Ciao a tutti, sono Marco, uno degli organizzatori di Tarrè, Officina della Sostenibilità. Tarrè, Officina della Sostenibilità è un evento che durante il mese di maggio offrirà alla città di Pordenone una serie di incontri dedicati al risparmio energetico, ai chilometri zero, a un altro modo di concepire l'abitare e quest'anno, la terza edizione, abbiamo deciso di dedicare particolare attenzione al tema dell'alimentazione. Saranno nostri ospiti, tre personaggi di fama nazionale, che ci spiegheranno un po' che cosa c'è dietro il cibo che ci troviamo nel piatto ogni giorno, perché noi non lo sappiamo, o forse non ci pensiamo, ma per avere quel cibo nel piatto abbiamo un impatto sull'ambiente, quindi ci verrà spiegato qual è il consumo di energia, di suolo, di risorse idriche che ogni nostra scelta comporta quando andiamo a fare la spesa per alimentarci. Questi eventi saranno dedicati non solo agli adulti, ma anche ai ragazzi e ai bimbi. Infatti verranno duplicati il pomeriggio per la cittadinanza e la mattina saranno rivolti in particolar modo ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. Il prossimo appuntamento è martedì 8 maggio, con una serata dedicata al nuovissimo quinto conto energia, dove degli esperti ci spiegheranno quali sono i vantaggi del solare fotovoltaico che comunque ad oggi rimane ancora un'ottima scelta per poter risparmiare, incidere meno sull'ambiente e avere energia gratuita. La fiera avrà la sua massima espressione l'ultimo weekend di maggio, il sabato 26 e domenica 27 maggio in piazza 20 settembre, dove sarà possibile toccare con mano le cose che avremo raccontato durante questi incontri e dove ci sarà la possibilità di assaggiare prodotti locali a chilometri zero e partecipare a una serie di laboratori sull'autocostruzione di un forno solare o su un modo di cucinare biscotti più attenti all'ambiente. Vi aspettiamo!